Grazie a tutti 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 Infatti noi tra di noi, dai tre quattro E questa è sempre la Vai ancora a questo Non è che forza Tu ti parla dal video pub Diggite loro e ritratiati qua su Però mi dice, hai biciato Ma non è una rossa propria E' il meglio il secondo Ma è come vi faccio un po' Perchola 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.